Di Piombino si torna a scioperare contro i tagli previsti dall'azienda su manutenzioni e vigilanza. I sindacati non ci stanno e chiedono invece investimenti. Maria Della De Francisci. Sarà il primo sciopero dell'era Gindal contro la gestione delle acciaierie di Piombino. Il prossimo 26 giugno scatta la protesta contro i tagli che l'azienda starebbe per mettere in atto per ridurre il rosso di circa 6 milioni nei primi 5 mesi dell'anno. Tagli al personale nei settori manutenzione e vigilanza, un rischio per la sicurezza, dicono i sindacati. I tagli alle manutenzioni, alla vigilanza, alla salvaguardia degli impianti non può far altro che ridurre la produttività di questo stabilimento che invece ha bisogno di riuscire a riprendere clienti e mercati. Dalla necessità di investimenti al tema bonifiche, tante le tematiche che i sindacati porranno il prossimo 9 luglio al tavolo di confronto convocato al Ministero dello Sviluppo Economico. L'azienda ci deve dire dove sono gli smantellamenti, dove è la parte che aveva detto avrebbe investito sui treni di raminazione, a che punto siamo con lo studio di fattibilità dei forni elettrici. I lavoratori chiedono certezze. Il futuro è incerto, poi i dirigenti vanno via, vengono, praticamente sembra una scrittura di un film che è sempre lo stesso. L'azienda dovrebbe fare davvero gli investimenti, allora porta i soldi, porta l'orientazione necessaria per dire che davvero sta completando la procedura per cominciare a fare i forni elettrici. Il governo vuole veramente sostenere lo piombino? E allora lo dimostrano i fatti. Parte dalla Sicilia.